il corso dedicato alle google apps for education vedremo di cosa si tratta visto che sono uno degli strumenti in assoluto più avanzati per l'ambito scuola vediamo innanzitutto cosa sono le google apps sono tutto l'insieme dell'ecosistema delle applicazioni di google che molti di noi già utilizzano le più note sono gmail drive ma sono decine si può citare youtube si può citare per esempio google plus il social network di google si può citare il calendar tutta una serie di applicazioni che hanno un grandissimo impatto anche nell'ambito didattico queste applicazioni possono essere utilizzate sia per l'ambito personale come molti di noi fanno da qualche anno pensiamo a gmail ma anche possono avere delle ottime ricadute anche in ambito scolastico perché consentono un uso molto semplice di strumenti piuttosto potenti come per esempio la suite office ormai google dispone di google documenti che può sostituire quasi integralmente word oppure dell'equivalente di excel oppure dell'equivalente di powerpoint oppure dell'equivalente per esempio di sistemi per creare dei quiz tramite google forms che in italiano è un google moduli e le google apps sono come dice un po anche la parola applicazioni che prescindono dalla macchina su cui girano vale a dire che funzionano in maniera pressoché perfetta sia su dispositivi fissi sui computer che sui portatili che sugli smartphone che sui tablet hanno bisogno di una connessione a internet e talora di una app un'applicazione dedicata di modo tale che su dispositivi con schermi piuttosto piccoli come sono tendenzialmente gli smartphone siano facilmente utilizzabili google offre alle scuole che aderiscono al progetto google apps for education tutto in modo gratuito questo può sembrare strano perché siamo abituati a usare i servizi di google in modo gratuito tuttavia quando questi servizi vengono forniti agli ambiti aziendali google apps for works si chiama hanno un costo anche piuttosto alto per il mondo education per il mondo scuola tutto è gratuito occorre semplicemente una sottoscrizione tramite una semplice form con cui google si accerta che siamo una scuola non c'è fine di lucro e in quel caso ci fornisce le applicazioni che peraltro rispetto a quelle che un normale utente può utilizzare non hanno limiti di spazio quindi gigabyte offerti sono illimitati e il numero di utenze che possono essere create quindi prevedibilmente l'utenza di tutti gli alunni di una scuola e tutti i docenti di una scuola sono praticamente infinite tutto l'istituto può essere coperto significa che ogni alunno se la scuola è d'accordo può avere un suo account con un nome che può essere cognome punto nome chiocciola ecco qui importante non gmail punto com ma chiocciola che so liceo della mia città punto com naturalmente quelle dominio liceo della mia città punto com deve essere acquistato e questo non è google a venderlo ma sono servizi di hosting che in italia hanno costi anche tutto sommato molto limitati parliamo di circa 15 20 euro all'anno in quel caso succede questo che dietro questo accordo e dietro questo dominio che il nostro dominio per esempio www.nomedellamiascuola.com dietro a questo dominio si cela google quindi quando noi forniremo un account ai nostri ragazzi non daremo mario.rossichiocciola gmail.com ma daremo mario.rossichiocciola liceodelamiacittà.com dove dietro liceodelamiacittà.com si cela a tutti gli effetti gmail.com e questo anche rispetto al territorio è molto importante perché abbiamo un dominio nostro personale su cui lavorare ma sotto questo dominio si muove l'ecosistema google in questo caso se la scuola è d'accordo ogni studente o anche solo ogni docente o consigliabile all'inizio un gruppo selezionato di docenti un gruppo selezionato di studenti ha il suo personal account con dietro tutti i servizi che un account gmail comporta quindi abbiamo detto youtube drive google plus oppure per esempio hangout per le comunicazioni e tutto l'ecosistema google che è estremamente diversificato come usarle i modi di usarle sono tantissimi il più noto è la condivisione dei materiali tramite drive che è il sito di google il servizio di google che consente di depositare i nostri materiali drive si può intendere con una specie di pendrive da qui anche il nome virtuale la pendrive che fino a oggi abbiamo avuto in tasca che è per lo più di 4 8 12 30 giga in questo modo diventa virtuale bisogna ricordarsi solo un nome utente password e lì una volta ricordato quello saranno i nostri dati questo ci svincola dall'oggetto pendrive e ci vincola però un account che l'account abbiamo detto google altro modo di usarlo è per esempio per la comunicazione dietro questi account c'è sempre gmail che da intendere più come un servizio di posta come un vero e proprio passaporto per tutte le applicazioni google e oppure anche il calendario un docente può impostare un proprio calendario condividerlo con la classe a quel punto ogni evento selezionato dal docente una scadenza una gita un evento da sviluppare a scuola sotto forma di notifica se i ragazzi lo installeranno nello smartphone avviserà lo studente di quella scadenza poi possiamo usare le google apps per la produzione dei contenuti video didattici per esempio su youtube come molti che si trovano liberamente visionabili su internet oppure la produzione di veri e propri documenti tramite google documenti che somiglia sempre di più a word anche se ha una complessità minore oppure le google apps possono essere usate anche come la cura dei come cura non la cura cura dei contenuti tramite il social network google plus per esempio un docente può fornire dei link a vari approfondimenti online che possono essere utili agli studenti ecco altri modi un altro modo molto interessante di usare le google apps è usare google classroom questo è l'unico servizio che non esiste al di fuori di google apps for education è l'unico servizio che un utente non scuola non può utilizzare perché è espressamente dedicato alle scuole ha una funzionalità molto semplice il docente crea una classe i ragazzi si abbinano a una classe il docente a quel punto crea un compito i ragazzi lo svolgono online da qualunque dispositivo computer portatile smartphone tablet lo consegnano online a quel punto al docente viene notificata la consegna il docente può correggerlo può reinviarla lo studente per eventuali modifiche può dare una valutazione il tutto senza stampare assolutamente nulla aspetto peraltro molto interessante che con classroom i compiti svolti da ogni singolo studente sono automaticamente dalla piattaforma catalogati in una cartella dedicata a quello studente quindi quella massa di documenti mail pdf che molti dei docenti ora utilizzano con i propri studenti che rischia diventare caotica in google classroom viene maniera totalmente automatica gestita dalla piattaforma quali sono i vantaggi delle google apps sono tantissimi vediamo i più importanti se si aderisce a questo schema ogni studente ogni docente ha un suo personale account quindi evitiamo di usare account personali la scuola in questo caso può dare degli account in maniera del tutto gratuita agli studenti e questi account sono nominali sono unici e possibilmente sono identificati dal nome il cognome dello studente previo accordo naturalmente e permesso delle famiglie specie per gli utenti minori un altro vantaggio è che tutte online non c'è bisogno di stampare assolutamente nulla anche il contratto con google si fa online non c'è quindi rischio di perdere documenti tutto è documentato quindi anche un ottimo sistema per la documentazione è gratuito il concetto di gratuito è estremamente discutibile specie quando parliamo di google però effettivamente non è questo un servizio su cui google vuol far soldi perché a modo di farli altrove e oltretutto detto in maniera molto diretta questo è un servizio col quale google peraltro cerca di comunque avere futuri clienti che acquistino smartphone che ruotino intorno ai propri servizi e quindi in qualche modo fruiscano della pubblicità e allo stesso tempo acquistino prodotti sponsorizzati a google quindi la gratuità è un concetto naturalmente inesistente però diciamo che non è una piattaforma in cui è visibile o addirittura fastidiosa l'ingresso pubblicitario poi un altro vantaggio molto grande è che lo spazio a disposizione è infinito chi usa molto i video sa che lo spazio su youtube ha dei limiti lo spazio su drive ha dei limiti per un docente in generale questi limiti sono sostanzialmente poco definiti in quanto parliamo di molti gigabyte ma chi usa produrre documenti come video in breve tempo potrebbe saturare lo spazio a disposizione in questo caso lo spazio invece è completamente senza limiti un altro grandissimo vantaggio apprezzato soprattutto dagli studenti è che tutto ciò di cui abbiamo parlato funziona in maniera indistinta su qualunque sistema operativo perché funziona da browser quindi si disinteressa completamente della macchina su cui gira perché può essere una macchina linux, una macchina windows, mac, android, un telefono windows phone un telefono ios quindi apple perché tutto ciò che serve per far funzionare è un browser possibilmente il browser di google che forse funziona un pochino meglio di altri che è google chrome ma anche tutti gli altri sono assolutamente funzionali allo scopo e quindi il vantaggio è avere tutto dematerializzato, tutto online, tutto in cloud e tutto accessibile attraverso un account cosa impareremo nel corso? innanzitutto usare queste app, alcune molti di noi le usano già come gmail, drive altre hanno invece un uso prettamente didattico e quindi vedremo il funzionamento impareremo a caricare materiali per la condivisione, molti di noi già lo fanno in altri casi vedremo come per esempio mettere a disposizione dei colleghi certi materiali oppure degli studenti e certi altri materiali coprire dei materiali da password per esempio, altri lasciarli liberi vedremo anche come utilizzare la suite di office fatta da google quindi google documenti che è l'equivalente di word e allo stesso tempo l'equivalente di excel e l'equivalente di powerpoint si usano tutti online e non richiedono particolari competenze in quanto sono versioni semplificate della nota suite office di microsoft vedremo anche come servirci degli strumenti in mobilità che google mette a disposizione soprattutto attraverso smartphone e tablet tutto quello di cui abbiamo parlato ha una controparte mobile che in genere funziona tramite una semplice app e ha una funzionalità talora limitata ma indubbiamente molto efficiente perché consente di essere usata praticamente in ogni aspetto anche appunto in mobilità naturalmente sempre in presenza di una connessione internet che sia dati o che sia wifi cos'è necessario naturalmente la connessione a internet un browser quindi un programma che serve per navigare che sia da pc, smartphone o tablet non cambia e un account gmail attivo ora questo serve per vedere le potenzialità poi naturalmente se la scuola vorrà aderire occorrerà sottoscrivere un accordo con google e a quel punto occorrerà che un tecnico, un docente, una segreteria indicizzi tutti gli studenti o tutti i docenti o come è consigliabile un numero ristretto di docenti pilota un numero ristretto di studenti pilota per sperimentare magari un anno o qualche mese le funzionalità che poi in un secondo momento possono essere stese a tutto il gruppo scuola anche al gruppo segreteria gli strumenti online che useremo di più saranno Gmail Drive che molti già conoscono ma anche altri come documenti, presentazioni, moduli e poi soprattutto Google Classroom attorno a cui ruota questa suite ma anche Google Plus come Social Network e YouTube il numero di incontri e ore è abbastanza vario 10-12 ore sono utili per vedere il funzionamento di questo ecosistema poi se la scuola vorrà invece configurare tutti gli account degli studenti occorrono naturalmente un numero di ore maggiori che tuttavia non servono necessariamente ai docenti in formazione ma potrebbero servire semplicemente ai tecnici o alla segreteria che avrà il compito di indicizzare le utenze e quindi gli incontri possono essere 3 o 4 eventuali altri incontri saranno probabilmente rivolti al personale forse non docente che avrà il compito eventualmente di indicizzare gli utenti grazie 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 grazie